benvenuti a questo nuovo appuntamento di un'opera in pillole ancora una volta sarà raffaello al centro proprio perché in questo mese ricorre il cinquecentesimo anniversario della sua scomparsa avvenuta il 6 aprile del 1520 l'opera che prenderemo in analisi è il cristo benedicente si tratta di una piccola tavola conservata a brescia presso la pinacoteca tosio martinendo eseguita nel 1505 la piccola tavola raffigura cristo con la mano destra in atto di benedire e con la sinistra mentre indica significativamente la ferita ancora sanguinante del costato le dimensioni e il taglio ravvicinato rivelano il carattere profondamente devozionale di una destinazione privata in cui il giovane raffaello mostra ancora una volta una particolare attenzione nell'accogliere con speccata personalità delle colte novità stilistiche e compositive tra loro molto diverse dai bellini a giorgione dalle luminescenze umbre del perugino di pinturicchio all'arte fiamminga influenze che rimarcano in modo sempre maggiore il distacco e una nuova autonomia dai modi del maestro perugino raffinata è la posizione a contrapposto con un accento di torsione e la testa leggermente reclinata che testimoniano la raggiunta maturità espressiva dell'artista espressivo è il volto sebbene composto ed editoso con un uso dello sfumato che già si rifà a quello di leonardo da vinci